Analizziamo l'età Giulio e Claudia sia da un punto di vista storico, sia dal punto di vista dei generi letterari che furono praticati in quest'epoca. Partiamo un po' dalla considerazione degli imperatori dell'epoca. Augusto muore. Augusto, come sappiamo bene, muore nel 14 d.C. e la sua morte era già stato designato come successore il figliastro Tiberio. Perché figliastro? Perché Augusto lo aveva adottato. Lo aveva adottato una volta che erano scomparsi tutti i possibili eredi che erano legati direttamente al principe. Infatti aveva tentato in un primo tempo di adottare i nipoti, ovvero i figli di Giulia, di sua figlia Giulia. Ma erano morti uno dopo l'altro e quindi non era più stato possibile designarli. E quindi pensò a Tiberio che era già grande. Per tutta la durata del suo principato, come ben sappiamo, Augusto aveva ostentato il rispetto per le istituzioni repubblicane. Ricordiamo la famosa restituzione repubblica che gli effettuò, ma in realtà di fatto aveva trasformato Roma in un impero dinastico sulla scorta degli imperi orientali. Quindi l'età Giulio-Claudia inizia proprio con Tiberio. Chi era Tiberio? Allora, Tiberio abbiamo detto che salì al potere nel 14 d.C. morì poi nel 37. Proveniva da una famiglia senatoria e quindi condivideva il punto di vista della nobilitas che quindi tentava in qualche modo di far apparire la scelta del principato come una scelta non amata da Tiberio ma comunque una scelta necessaria. Peraltro Tiberio non volle mai istituire il culto imperiale, il culto della propria persona, in questo quindi si differenziò molto da Augusto e cercò sempre l'appoggio del senato. Tuttavia fu circondato da un profondo dissenso, soprattutto dopo la morte di Germanico, che era il nipote di Tiberio che si era distinto appunto nelle guerre in Germania. E questa morte di Germanico fu un po' sospetta perché di fatto Germanico era stato designato come successore imperiale e alcuni sospettarono che Tiberio lo avesse fatto uccidere. Quindi in questo periodo di grandi dissensi lui cercò di far approvare la propria personalità e quindi di rafforzare la sua posizione facendo leva soprattutto sull'esercito e sui pretoriani. Ricordiamo che i pretoriani erano la guardia dell'imperatore che resideva a Roma presso il Castro Pretorio, quindi erano l'unica guardia armata presente all'interno di Roma, una guardia privata dell'imperatore. A un certo punto Tiberio si ritira a Capri nel 26 d.C. e affida al prefetto del pretorio, che era ovvero l'ufficiale più importante dei pretoriani, il capo dei pretoriani, di nome Seiano, gli affida il controllo dello Stato. Seiano approfitta di questa posizione di prestigio e quindi reprime l'opposizione senatoria ed entra in conflitto con i potenziali successori di Tiberio, tra cui il figlio di Tiberio stesso, che è Druso Minore. Druso Minore morì a un certo punto in una maniera sospetta, per cui si pensò che fosse stato lo stesso Seiano ad averlo fatto assassinare. Tiberio a questo punto fa condannare Seiano nel 35, quindi Seiano viene condannato a morte, e prima di morire Tiberio adotta e nomina suo erede Gaio, che è figlio di Germanico. Gaio prenderà come soprannome Caligola dalla Caliga, cioè la calzatura tipica dei militari. Veniamo quindi all'imperatore Caligola, che regnò a pochissimi anni. Caligola infatti regnò dal 37 al 41, completamente diverso da Tiberio, fu orientato a una politica ben lontana dal tradizionalismo filo-senatorio, quindi assolutamente contro i privilegi dei sinatori. Accentua invece il potere imperiale in senso personalistico e autoritario, e tra l'altro ripristina nuovamente il culto della figura dell'imperatore, facendo persino divinizzare sua sorella ancora in vita. Riprese appunto il culto della persona dell'imperatore, lui stesso fu venerato come il dio sole. Spese gran parte delle casse dello Stato in opere pubbliche nella speranza di ottenere consensi, ma poi fu assassinato nel 41 in una congiura organizzata da ufficiali del prefetto del pretorio. A lui successe Claudio. L'imperatore Claudio regnò dal 41 al 54. Era fratello minore di Germanico, era un uomo di studi, per cui si era dedicato agli studi per gran parte della vita e soltanto in età già avanzata fu designato come imperatore. Ristabilì i buoni rapporti con il Senato e rafforzò il suo potere attraverso una solida burocrazia, quindi attraverso funzionari. Questi funzionari erano scelti soprattutto tra i liberti, erano funzionari di fiducia che si occupavano delle casse dello Stato, si occupavano della sua corrispondenza privata e teniamo ben presente questo aspetto perché quando parleremo a proposito di Seneca della Consolatio ad Polibium rivolta ad un liberto dell'imperatore Claudio funzionario, capiremo bene quanta importanza avessero questi liberti sotto Claudio perché appunto i liberti avevano assunto delle posizioni di prestigio, di spicco come persone di fiducia dell'imperatore stesso. Claudio ebbe poi il merito di portare avanti una spedizione in Britannia che era stata iniziata da Caligola e rese la Britannia una provincia imperiale, quindi di fatto ampliò i confini dell'impero. Ampliò inoltre il numero dei senatori romani, immettendo all'interno dell'ordine dei senatori anche i membri dell'aristocrazia gallica. Questo fu un po' un errore tattico di Claudio che gli valse l'ostilità dei senatori romani, italici in generale, perché appunto iniziarono a muovergli diverse accuse, anche la storiografia contemporanea cominciò a parlare di Tiberio come di un uomo inetto, di un uomo incapace, come di un uomo che si era lasciato a bindolare dalla terza moglie Messalina, poi dalla quarta moglie Agrippina, quindi comunque una persona che non doveva godere della fiducia del suo popolo. In realtà tutto questo perché appunto aveva fatto una scelta piuttosto ardita, che era appunto quella di inserire all'interno del numero dei senatori anche un certo numero appunto dei senatori gallici. Sposò, come abbiamo detto in quarta nozze, Agrippina, minore, la figlia di Germanico. Agrippina lo indusse ad adottare Nerone. Chi era questo Nerone? Era il figlio che Agrippina aveva avuto dal suo precedente matrimonio con Domizio e Nobarbo. Questo Nerone, figlio di Agrippina, divenne successore di Claudio al pari di Britannico, che era invece il figlio legittimo di Claudio avuto dal precedente matrimonio con Messalina. E a un certo punto appunto Claudio nel 54 morì in circostanze misteriose, si sospetta che sia stato fatto avvelenare dalla stessa Agrippina. Successe appunto a Claudio l'imperatore Nerone, abbiamo detto appunto adottato da Claudio, figlio però di Agrippina e di Domizio e Nobarbo. Nerone regnò dal 54 al 68 e divenne imperatore a solo 17 anni, fu infatti affiancato da Agrippina, dal filosofo Seneca e dal prefetto del pretorio, Afranio Burro. Per cinque anni, quindi dal 54 al 59, tenne una gestione equilibrata del potere, lasciandosi quindi, diciamo, guidare nella sua carica. Nel 59 invece iniziò un periodo buio. Innanzitutto fece uccidere Agrippina, cioè sua madre. Poi prese le distanze da Seneca e da Burro e affiancò invece a Setti Gellino, che era un uomo decisamente spietato, che tra l'altro gli suggerì di uccidere la moglie legittima Ottavia per sposare Poppea. Nel 62 Seneca si ritirò a vita privata, non potendo più tollerare certe intemperanze dell'imperatore. Fu un autocrate, quindi un uomo che prese nelle mani un po' tutto il potere. Redimensionò il ruolo del Senato, quindi si mise contro i senatori in maniera diametralmente opposta a quella che aveva fatto in un primo tempo Claudio. Operò una riforma monetaria e una riforma economica che favorì le classi emergenti delle province. Quindi cercò di dare impulso ai provinciali anziché agli italici, cosa che appunto gli attirò grandi ostilità da parte dei senatori. Ed inoltre favorì il proletariato urbano, quindi appunto le classi meno abbienti, per ottenere consensi. Nel 64 ci fu il famoso incendio di Roma, di cui Nerone fu accusato, sicuramente insomma a torto, perché sappiamo bene appunto che Roma era una città in gran parte basata su strutture e lignee, quindi è verosimile pensare che gli incendi potessero essere appiccati e divampassero con una facilità straordinaria. Di fatto dopo questo incendio ne approfittò per dare vita ad opere pubbliche e quindi fece ricostruire gran parte della zona monumentale di Roma e fece realizzare anche la sua Domus Sauria, che si trovava di fronte all'attuale Colosseo, che sappiamo appunto fu realizzato dagli imperatori Flavi successivamente, dopo la morte appunto di Nerone. e incolpò dell'incendio i cristiani che furono perseguitati. Nel 65 la situazione dei senatori divenne insopportabile, al punto che fu ordita una congiura da parte del Senato capeggiata da Calpornio Pisone. La congiura però fu sventata, quindi Nerone fece chiaramente strage, diciamo così, dei congiurati. Tra le vittime eccellenti ricordiamo gli scrittori Seneca, Petronio, Lucano, oltre ad esponenti importanti del Senato. Morì alla fine Nerone nel 68 dopo aver fatto un viaggio in Oriente che lo portò in qualche modo ad assumere anche atteggiamenti di tipo orientaleggiante, diciamo come di un fautore delle arti, come di un fautore della poesia, quindi lui stesso si mise a declamare, a cantare, insomma senza altro tutti atteggiamenti che comunque gli valsero l'odio da parte dei romani. E una volta tornato a Roma ci fu una rivolta dei governatori delle province occidentali e dei loro eserciti, Nerone scappò e si fece uccidere da uno schiavo appunto nel 68. E così termina la dinastia Giulio-Claudia, l'anno 69, l'anno dei famosi tre imperatori, Galba, Autone e Viteglio, poi vi parleremo. Andiamo a vedere gli aspetti della cultura. Che succede? In questo periodo si accentua il fenomeno della disgregazione del rapporto tra intellettuali e potere. Abbiamo visto che sotto Augusto Mecenate aveva svolto un ruolo fondamentale, perché Mecenate aveva fatto da tramite tra il potere e gli uomini di cultura e quindi era riuscito ad assicurare agli uomini di cultura una certa autonomia per quanto chiaramente fosse un'autonomia limitata. morto Mecenate, questa integrazione dell'intellettuale all'interno delle direttive del principe venne meno e quindi ci fu una vera e propria rottura tra il potere e la cultura. Questa rottura si acuì sempre di più considerando anche che la situazione politica sotto imperatori come Caligolo o come Nerone andò deteriorandosi. e a questo punto quindi di fronte ad un potere intransigente che quindi non consentiva spazio alle diverse opinioni e liberticida, perché appunto non permetteva certo la libertà né di pensiero né di parola, a questo punto gli intellettuali, la maggior parte dei quali apparteneva al rango senatorio, anche se poi c'erano anche degli esponenti dell'Ordo Equestre, assunzero tre diverse posizioni. Allora ci fu chi ovviamente avanzò la strada, percorsi la strada del consenso, ci fu chi pur non diciamo percorrendo la strada del consenso ebbe un atteggiamento di non collaborazione rispetto a quello che il princeps andava chiedendo e ci fu invece chi espresse un aperto dissenso. Ovviamente il dissenso venne censurato e venne appunto condannato. E questa è la dinastia Giulio-Claudia che poi vi invito ovviamente a studiare sul vostro libro, almeno per sommi capi, per cercare un po' di capire le parentele e le alleanze dinastiche che si creano. Andiamo a vedere invece quanto anche lo stoicismo abbia assunto un'importanza fondamentale all'interno del periodo dell'età Giulio-Claudia. Lo stoicismo si era già diffuso ampiamente in età repubblicana, in particolare nella prima metà del primo secolo dopo Cristo fino al principato di Nerone, lo stoicismo diventò un asse ideologico intorno a cui rotò gran parte del dissenso nei confronti della politica imperiale. Quindi lo stoicismo diventò un po' un polo di attrazione per quei filosofi che vedevano nello stoicismo anche un'opposizione alla tendenza tirannica di certi imperatori. La speculazione filosofica stoica infatti si dedica soprattutto a problemi di carattere etico, quindi alla morale, al comportamento.